Signor Luis, grazie per essere qui con i suoi amici. Ho una brutta notizia e bisogna prendere delle decisioni sulle cure di sua madre. Essere onesti è un po' avanti con l'età. Oh, cacchio. Ok, ho capito. Allora, senti questa. Tua madre è così vecchia che ho sentito che di nome fa Dina Saura. No, signor Luis, non era un insulto. Cercavo di dirle che le condizioni di sua mamma vanno peggiorando con l'avanzare dell'età. Oh, siamo in vena di battute pesanti, eh? Ok, forte. Allora, senti questa, bello. Tua mamma è così vecchia che a scuola per scrivere usava martello e scalpello. Sì, ecco, guarda, faceva così, prendeva e... Signor Luis, questa non è una gara di insulti. Ecco, vede sua madre, oltre a essere anziana, corre anche il rischio di non camminare più a causa del suo peso. Ah sì? Bene, allora fa sul serio. No, guardi che non la sto insultando, sto solo cercando di spiegare... È così grassa che al cinema proiettano il film su di lei. Scusi, è lei lo schermo? È lei lo schermo? Senta, mi ascolti, sua madre deve tenere d'occhio il peso se non vuole ammalarsi, capisce? No, cavolo, bella questa. Allora, tua madre è così grassa che le servono la latitudine e la longitudine per pulirsi il buco del culo. No! L'ho asfaltato, vieni qua. Ben detto! Oh! Sentito le coordinate! Chi è il dottore ora? Adesso basta! Sono io il dottore. E voglio assicurarmi che sua madre riceva un'adeguata assistenza medica. Qui stiamo parlando della donna che l'ha cresciuta. Il minimo che dovrebbe fare è supportarla e prendere la faccenda con serietà! Mi scusi. No, mi scusi lei. È che ho perso le staffe. Sul serio, dottore. Io, ecco, ho bisogno di scherzarci sopra perché so che la situazione è molto seria e... Sa, forse... forse l'umorismo è l'unico modo che ho per affrontarla e... Dovrei informarla sul fatto che mia madre non vuole sottoporsi a nessuna procedura invasiva. Davvero? Ah, però questo non me l'ha detto sua madre durante la nostra ultima visita. O forse l'ha fatto, non saprei. Può essere che non capissi sua madre mentre aveva il mio cazzone in bocca, sa? Scherzavo, signor Luis. L'ho asfaltata. Bene, parliamo della terapia. Grazie. 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 Grazie.